Benvenuti a questo nuovo video relativo alla realizzazione di una semplice rete collegare insieme il nostro pc dove abbiamo il software del Tia Portal con un S7 1200 ma anche con un 1500 e con un HMI il collegamento avviene attraverso uno Scalens XB005 che non è altro che uno switch con moltiplicatore di porte Ethernet questi sono i collegamenti ogni componente viene collegato a questo Scalens e quindi posso comunicare il Tia Portal con l'S7 1200 per trasferire il programma il Tia Portal con l'HMI per trasferire il progetto sul touchscreen e poi possono comunicare HMI ed S7 per comandare il PLC oppure per visualizzare cosa sta accadendo al PLC tutto quanto attraverso la PROFINET vediamo la prossima slide allora abbiamo detto che per quanto riguarda il collegamento possiamo usare questo switch Ethernet in questo caso è della Siemens la versione che sto utilizzando, almeno quella che ho io è questa con 5 porte, si chiama Scalens XB005 ed è dotata di 5 porte del tipo RJ45 porte che rilevano automaticamente la velocità di trasmissione la velocità di rete per questo Scalens è da 10 a 100 Mbit al secondo qui ci sono altre caratteristiche c'è anche il modello XB008 peccato se era 007 era anche segreto con 8 porte ed è una soluzione salva spazio abbastanza economica velocità è questa montaggio su guida DIN tensione di esercizio 19,2 DC o C tensione di massimo esercizio consumo di corrente consumo di corrente in Watt cos'è un RJ45? è una sigla che si riferisce al tipo di interfaccia fisica utilizzata per le connessioni telefoniche per il trasferimento di dati infatti tutti e tre i componenti della rete devono comunicare tra di loro i dati l'RJ sta per registered jack cioè è un cavo registrato ed indica alla famiglia quelli che noi chiamiamo jack di cui fa parte anche l'RG11 che è quello utilizzato tipicamente per apparecchi telefonici la differenza tra l'uno e l'altro qual'è? che l'RJ45 ha un vasto utilizzo nel cablaggio delle reti locali secondo lo standard Ethernet vediamo la prossima slide ecco, questo è il nostro EJMI KTP700 con il suo schermo queste sono alcune caratteristiche il modello ovviamente è touchscreen il modello 700 ha un display di 7 pollici 65536 colori la comunicazione è con interfaccia PROFINET il progetto è tramite il WinCC che fa parte del software LTA Portal l'alimentazione 24V corrente continua il range è da 19,2 a 28,8 quant'è la memoria? 10 MB se nella parte inferiore ruotando il nostro ECMI possiamo trovare gli ingressi per il collegamento abbiamo una porta USB collegamento con lo switch e l'alimentazione a 24 porta eccolo qua, guardate abbiamo l'ingresso l'ingresso di collegamento a rete del nostro PLC che vado a collegarlo su una qualsiasi delle 5 porte l'ECMI lo collego in un'altra qualsiasi porta e il mio portatile, il mio PC lo collego in questo modo questo è il collegamento 24V e così ho realizzato la mia rete per quanto riguarda caricare poi la pagina base la pagina che abbiamo creato con l'ECMI la pagina base che deve essere trasferita nell'ECMI il trasferimento è identico alla modalità con cui trasferiamo dal PC al PLC quindi o clicco su HMI e poi selezione quindi vado su carica nell'espositivo oppure sono già direttamente sulla pagina base e clicco e comunque sempre vado a trasferirlo con carica nel dispositivo si apre la finestra del caricamento e automaticamente dovrebbe riconoscere l'interfaccia che è Ethernet, Profinet questa è la scheda di rete di comunicazione del mio PC ma molto probabilmente per moltissimi PC è la stessa e dovrebbe riconoscere che il connettore è già a posto del mio Scalance 5x1 e così riconosce che il nostro cavo Ethernet è direttamente collegato allo Scalance dicevamo clicchiamo su avvia ricerca una volta che ha trovato il dispositivo con il suo indirizzo IP non si vede nella slide ma sotto c'è il tasto continuo clicchiamo su continuo e lo trasferiamo direttamente nell'HMI se l'HMI ha già un altro programma ci chiederà se vogliamo sovrascriverlo ovviamente se dobbiamo continuare dicendo di sì adesso passiamo a visualizzare un breve video che ho realizzato in una scuola in un istituto tecnico-industriale di ITIS di Schio dove possiamo vedere il banco dove ci sono tre cilindri a doppio effetto quindi con comandi elettro tre cilindri a doppio effetto comandali dal PLCS 7200 e dal nostro touch panel questo è il banco dove sono montati i componenti per poter usare l'HMI vediamo che ci sono tre cilindri doppio effetto il PLC con l'alimentatore e le due espansioni e il touchscreen con il pannello operatore già pronto per poter comandare direttamente il PLC dal pannello operatore vediamo c'è uno start auto un reset contattore perché i cicli erano tre adesso premendo lo start auto parta il nostro programma bene così il video è completato se vi è piaciuto il video scrivetevi al canale troverete moltissime altre informazioni e arrivederci al prossimo video